Facciamogli vedere chi comanda! E' rimbalzato! Li abbiamo appena aggraziati! E' rimbalzato! Preso! Li abbiamo appena aggraziati! Li abbiamo danneggiati! E' rimbalzato! E' rimbalzato! Li abbiamo danneggiati! Corazzato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! Bel colpo! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Bel colpo! Corazzato nemico danneggiato! Corazato nemico qui! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo danneggiati. È rimbalzato. Pilota ferito. Cambio obiettivo. Agganciato. Corazzato nemico danneggiato. Cambio obiettivo. Pertaglio obiettivo. Preso. Pertaglio obiettivo. Pertaglio obiettivo. Pronti a fuoco! Bel colpo! Veicolo nemico distrutto! Verde! Imbilare! 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 Grazie a tutti. Veicolo nemico distrutto!